Andrea Papa, parliamo di questo evento, un grande evento per Pescara e tra l'altro c'è una coincidenza particolare con i 30 anni della vostra società. Sì, diciamo che questa manifestazione che stiamo organizzando Pescara di Windsurf è una manifestazione che ha un po' una doppia valenza, sia quella di ospitare i migliori atleti italiani in questa tappa del circuito e del campione italiano Juniors e in più coincide, la facciamo coincidere anche un po' con il festeggiamento della ricorrenza dei nostri 30 anni di attività. Quindi diciamo una doppia festa, sia sportiva che insomma anche sociale per quanto riguarda le nostre attività. Che cosa vedremo in queste due giorni a Pescara? Allora, sicuramente lo spettacolo del Windsurf è unico, io dico sempre, perché comunque veleggiare con un Windsurf è un momento di totale, totale libertà. Forse fra tutte le discipline veliche è quella che rappresenta al meglio la libertà nel mare. Vedremo i campioni perché nei 90 preiscritti che ad oggi hanno quasi tutti confermato avremo sia un campione del mondo italiano che tutta la campione del mondo, un campione europeo master e Torzoni che è di Livorno. Poi abbiamo invece il campione europeo master che è barone di Roma e poi ci sono atleti più giovani che hanno già vinto in altre categorie e in altre classi il campione italiano quando erano un po' più giovani nelle giovanili sostanzialmente. Questa è una classe che ha la caratteristica di racchiudere i ragazzini dai 10 fino ai 60 anni, quindi è veramente uno spettacolo vedere insieme sia ragazzini molto piccoli con persone master, che per me è anche un momento veramente molto importante di condivisione.